Il motivo per cui ho scelto Empoli è per come ho detto perché ha sempre dato la possibilità a ragazzi soprattutto di giocare, di sbagliare e anche perché, come hanno detto prima, si è creata un nome importante anche in Serie A e quindi è una piazza che merita rispetto e non è solo una piazza per far crescere i giovani ma che ha l'ambizione di fare ogni anno meglio e quindi sono venuto qua con questo spirito e spero di iniziare presto.